e la ragazzi buongiorno buongiorno a tutti allora oggi vi presento un altro amico di Bellinzago Lombardo a pochi chilometri da Milano è un bravo signore c'ha un allevatore sapato e vediamo un attimino quella che è la sua presentazione e soprattutto quello che è il suo allevamento guardiamo le immagini ciao Giuseppe io sono Franco Lorenzoni abito Bellinzago Lombardo in provincia di Milano io allevo canarini rossi intensi canarini mosaico rosso mosaico canarini gialli mosaico e poi ho anche dei cardellini dei cardellini che ormai ho venduto però mi sono messo con i cardellini maio è il secondo anno perciò non so cosa mi salterà fuori poi col tempo vedremo ho il mio allevamento è un seminterrato e ho la luce artificiale e praticamente ho una bella finestra però adesso fa un po' freddo l'ho semi chiusa e lì c'è un aspiratore che tutta la freddo mi va a finire dentro lì qui c'ho due filtri perché c'ho l'acqua che mi arriva fino qua e riesco a mettere l'acqua a tutti i canarini poi allevo questi sono i miei canarini che allevo per dire sono mosaici questi sono i mosaici vi faccio vedere qualche pulpo qui ce ne sono tre questa rossa è un po' pericolosa tirare lì si rarmi su perché ho paura che mi cadono dal dito qua ci sono i cardellini maio ho una coppia qui una sotto qua invece sono dei gialli mosaico qui ci sono altre due coppie di mosaico vi faccio vedere anche qui ci sono dei puli però sono pericolosi perché ho paura che vanno fuori dal nido questi ancora caccellini lì c'è uno che sta provando questi invece sono un po matti perché mi fanno le uova per terra mi faccio vedere tutto l'allevamento completo qui nella parte sinistra sono i gabbioni dove andranno i puli questo è qualche premio l'ho fatto anch'io c'erano pochi ma però c'è anche poco posto di metterli tutti spero che vada bene ti saluto Giuseppe scusami se oggi ti ho un po' disturbato ecco ciao e tante belle cose bene ragazzi allora è stata una presentazione una bella presentazione anche questa qui la cosa la situazione procede nel migliore di modi e naturalmente ci vediamo venerdì e vi saluto con loro ciao